In Toscana si battono nuove strade per contrastare la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile che nel 2016 ha raggiunto il 34%. A questo punto hanno i due protocolli su alternanza scuola-lavoro e apprendistato firmati dalla regione toscana con la CIDA, che rappresenta la dirigenza privata e industriale del terziario e del pubblico, e con l'ufficio scolastico regionale insieme al Consiglio Provinciale di Firenze e dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Obiettivo? Dare ai giovani competenze in linea con le esigenze delle imprese toscane attraverso il sistema duale in cui scuola e mondo del lavoro remano nella stessa direzione. Noi assistiamo al paradosso che molte aziende non trovano le professionalità che richiedono e allo stesso tempo è altissimo il tasso di disoccupazione giovanile. Quindi questa tendenza va invertita e come si fa a invertirla? Facendo dialogare di più questi due mondi. Il protocollo seglato con la CIDA punta a sbloccare l'accesso dei giovani alle piccole e medie imprese. I manager si mettono a disposizione effettivamente, in maniera proattiva, dei giovani e della regione toscana per supportare quel legame tra imprese e scuola che oggettivamente abbiamo visto necessita di un ulteriore apporto. Il fulcro del protocollo firmato dall'ufficio scolastico regionale e dai consulenti del lavoro è la fase successiva all'alternanza tra scuola e lavoro, cioè l'apprendistato formativo che alle imprese offre sgravi contributivi e agli studenti sia delle superiori che delle università consente di studiare e lavorare ricevendo uno stipendio. Con la crisi attuale io credo che le aziende abbiano sempre più bisogno di personale specializzato e quindi sicuramente ci vogliono queste sinergie tra scuola e imprese affinché si possa veramente cercare in qualche maniera di sollevare il problema dell'occupazione giovanile. Gli incentivi nazionali e regionali connessi al contratto di apprendistato saranno illustrati attraverso corsi e seminari, il tutto per sburocratizzare l'accesso dei giovani al lavoro e fornire alle imprese ragazzi preparati.